Nel campionato Primavera 2, cinquina del Frosinone sul campo della Salernitana e seconda vittoria consecutiva per i giallazzurri di Marcella che conquistano tre punti preziosi e salgono ancora in classifica. Dopo cinque minuti il vantaggio firmato Vitalucci che in diagonale con il destro batte il portiere di casa Campisi. Immediata la reazione della Salernitana che complice una distrazione della difesa del Frosinone trova il pareggio con Pezzo. Al ventiquattresimo è Bruno a riportare subito in vantaggio i giallazzurri che nel finale di primo tempo grazie al solito Vitalucci partito sul filo del fuorigioco trovano il terzo gol. Squadra è al riposo con il Frosinone avanti 3-1. Nella ripresa la Salernitana accorcia le distanze grazie allo sfortunatissimo autogol di Maestrelli trovato battuto e partita riaperta. Passano pochi minuti, è il ventesimo del secondo tempo e una magia di Perez, conclusione volante dalla lunga distanza. Regala Vitalucci il pallone che vale il 4-2. Tripletta personale per il bomber del Frosinone che si conferma con 14 gol, miglior marcatore del torneo. Nel finale Maestrelli riscatta il precedente errore e di testa batte ancora Campisi fissando il risultato sul 5-2. Grazie a tutti.